Lungo le strade di Cosenze della sua provincia la spiritualità di Suore Elena Iello continua a coinvolgere nell'aria, nelle cose, nelle storie che si intrecciano, nel sostegno che nel tempo Suore Elena, alle suore minime della passione, hanno dato ai più deboli, agli orfanelli, alle donne sole, insieme alla fedele gigia, da una casa all'altra, da un progetto all'altro, da una città all'altra, nella sofferenza corporea e nella fede immensa, ha fondato luoghi di accoglienza dove la carità in tempo di guerra ha lasciato il segno. E ora questa donna calabrese che dialogava con i potenti del mondo e con i più poveri sarà beatificata, è un evento che riempie di gioia il cuore dei cristiani e non solo perché l'opera delle suore minime della passione è di innegabile valore ed è riconosciuto da tutti, così come il miracolo della monaca santa e del 2002 oggi è stato riconosciuto dalla congregazione delle cause dei santi. La beatificazione di questa prima donna dell'epoca moderna in Calabria sarà la prima beatificazione anche nella nostra terra e nella nostra diocesi, un frutto dello spirito, un segno che dalla chiesa sbocciano sempre dei bellissimi fiori. Con la conferma finale da parte del Papa, il cardinale Angelo Amato della beatificazione, il cui ITER è già avviato. La segreteria di Stato stabilirà la data per la celebrazione della beatificazione che avverrà a Cosenza, ovvero nella diocesi in cui ha operato la venerabile Elena Iello e dove si è svolto il processo sul miracolo che è andato avanti per otto mesi nel 2005. Una festa per la chiesa calabrese, mentre proprio a giugno si celebreranno i 50 anni dalla morte di sore Elena. Il vescovo di Cosenza, Monsignor Nunnari, sottolinea quanto il suo esempio sia attuale in un mondo che scappa dalla sofferenza. Le sore minime della passione aspetteranno il momento della beatificazione in preghiera. Sono molto emozionata nel sentire e nell'apprendere la notizia della prossima beatificazione di Madre Elena Iello, la nostra amatissima fondatrice.